Ciao ragazzi e benvenuti qui alla Angry Marmot Films, il canale dell'epica marmotta. Come avrete già capito, oggi andremo a smontare il paraurti, ma non solo. Cambieremo questo e ci metteremo una bella striscia LED. In più sostituiremo le luci della retromarcia con delle luci a LED. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!